Continua e incessante l'opera di contrasto alle illecite attività in genere e al controllo del territorio da parte degli uomini della Guardia di Finanza di Siracusa. I finanzieri infatti nel corso dei servizi svolti in tutta la provincia hanno individuato un garage nel centro di Floridia dove tale MF di 63 anni aveva allestito una vera e propria Santa Barbara all'interno della quale è stato rinvenuto mezzo quintale di prodotti illegali, illegalmente detenuti in condizioni tali da attentare all'incolumità e alla sicurezza delle persone residenti nelle immediate vicinanze dell'immobile. Gli artifici pirotecnici sono stati sequestrati e il responsabile è stato denunciato a piede libero alla locale procura della Repubblica per avere allestito un deposito abusivo di materiale infiammabile ed esplodente omettendo di denunciare l'esistenza all'autorità di pubblica sicurezza. Inoltre è stato individuato un altro deposito illegale allestito in pieno centro abitato di Siracusa dove sono stati rinvenuti numerosi cartoni contenenti oltre 2500 artifici pirotecnici di genere vietato nonché manufatti artigianali ad alto potenziale dirompente e defragante. Il responsabile è stato denunciato alla procura della Repubblica di Siracusa. I carabinieri della stazione di Augusta nella mattinata di ieri nel corso di un predisposto servizio finalizzato alla prevenzione e repressione delle attività illecite nel settore ambientale a seguito di un numerato controllo pianificato dal comando della compagnia carabinieri di Augusta hanno rinvenuto in contrada coreale all'interno di un terreno circa 200 vasche in cemento eternit in amianto della capienza di 500 litri cada uno alcune di esse gravemente deteriorate materiali appartenenti a rifiuti classificati pericolosi. I carabinieri pertanto hanno sequestrato tutto il materiale rinvenuto e l'intera area in cui si trovava depositato procedendo contestualmente ad identificare i proprietari del terreno entrambi di Augusta e rispettivamente padre e figlio. I due sono stati segnalati per le violazioni delle norme vigenti sull'ambiente alle rispettive autorità giudiziarie e amministrative. E' avvenuta nel reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Umberto I di Siracusa diretto da Antonino Bucolo la prima nascita del 2019 nella provincia di Siracusa si chiama Vincenzo, pesa 3,40 kg primo genito dei giovani Gianluca Carta e Michela Monarca residenti a Merilli ed è venuto alla luce 25 minuti dopo la mezzanotte del 1 gennaio 2019 Vincenzo e la mamma godono di ottima salute ad assistere a parto sono stati i ginecologi Massimo Martinezzi e Valeria Cunzolo l'ostedrica Ilaria Catania la neonatologa Valentina Fatuzzo e l'infermiera professionale Francesca Coluccia A Lentini manca l'acqua dal 31 dicembre scorso e scoppiano le polemiche nei social sicuramente scrive Alfio Castiglia su Officina Leontinovi l'amministrazione non c'entra niente con rotture della rete idrica ormai vecchia tutta da rifare e un comune in dissesto non ha le forze per affrontare una spesata del genere ma è anche vero, continua Alfio Castiglia che il sindaco, occhi per lui non è riuscito a mettere insieme quattro parole a riguardo solo per avvisare i concittadini che si sta cercando il guasto a chi rivolgersi per i casi più disperati a Lentini infatti sono senza acqua nuclei familiari con bambini piccoli, anziani e case di riposo invece il sindaco, continua Alfio Castiglia riesce ad entrare in quasi tutti i profili facebook per farsi pubblicità tipo pavimentazione, scarse di poca durata di via Garibaldi casa dell'acqua, opera della vecchia amministrazione presepe vivente o notte bianca realizzate da associazioni speriamo in un maggiore impegno e meno film e sceneggiate di comparsa per questo nuovo anno scrive ancora nei sociali Alfio Castiglia speriamo che si ricordino i vari impegni presi con i lentinesi tipo le periferie abbandonate vedi zona 167 centro storico nell'abbandono mini e max di scariche di rifiuti ovunque per non parlare dell'ex villa comunale oggi nell'abbandono più assoluto e ancora strade ridotte a mulattiere mercato settimanale che ancora blocca un paese nonostante sono stati spesi soldi per asfaltare il nuovo sito nella zona 167 che è già da rifare raccolta differenziata organizzata in maniera disastrosa e con percentuali di differenziata scarse tant'è che il comune non rientra neanche lontanamente nelle percentuali minime per le quali la regione ha erogato dei fondi quindi concludi Affio Castiglia su Officina Leontino cercate di essere più onesti e realisti politicamente e svegliatevi da questo vostro personalismo sogno di una lentini fiorente e celsa fastosa, superlativa solo perché avete piastrellato 100 metri di strada via Caribaldi e la pubblicizzate come qualcosa di faraonico In via Etnea a Lentini all'altezza del vecchio impianto semaforico urge realizzare le strisce pedonali per evitare che qualche pedone venga investito in pieno da qualche automobilista o scooterista poco attento è da tempo infatti che la soluzione di questo importante problema viene richiesta dai cittadini ma sia il sindaco di Carlentini che quello di Lentini considerato che la strada appartiene ai due comuni limitrofi continuano a fare come Ponzi o Pilato ossia se ne lavano le mani ma è mai possibile che per risolvere un problema della vita quotidiana che assilla i cittadini prima deve scapparci necessariamente il morto? La via Gaeta a Lentini è diventata una discarica a cielo aperto da quando l'amministrazione comunale ha deciso di far eliminare gli alberi piantati da decenni in questa via cittadina cittadini incivili e senza rispetto per chi vive in questa zona del paese però non hanno esitato a sostituire gli alberi che dimoravano nelle aiole con sacchetti di spazzatura di ogni genere la qualcosa sta contribuendo a creare disagio agli abitanti di via Gaeta e non solo che nonostante le numerose segnalazioni fatte al comune sono costretti a convivere con la spazzatura anche al comune quindi fanno orecchie da mercante Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti